Se guardassimo il tabellone del singolare maschile Roland Garros, così a prima vista diremmo che la metà alta del tabellone è più forte della seconda. Infatti se arrivassero nei quarti tutti favoriti, vale a dire Algaraz contro Zizipas e Djokovic contro Rublev, avremo quattro potenziali vincitori del torneo, forse più potenziali di quelli che stanno nella metà bassa. Ma per seguire quanto voglio ancora raccontarvi, spostatevi sul sito di Intesa San Paolo.